Musica Previsioni per mercoledì 14 novembre, aggiornate alle 14.30 del 13. L'alta pressione si rinforza sull'Italia e sulla nostra provincia, garantendo tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata di mercoledì. Domani il cielo sarà sereno in montagna e parzialmente nuvoloso in pianura, con la formazione di foschie dense o banchi di nebbia in dissolvimento nelle ore maggiormente soleggiate. Diminuzione della copertura da metà pomeriggio, precipitazioni assenti. Le temperature in pianura la minima 8, la massima 15 gradi. In montagna la minima 0, la massima 7 gradi. Le temperature in pianura la minima 10, la massima 15 gradi.